Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di un mondo i cubi Prima di cominciare questo video ragazzi prendiamo subito le coordinate Ok me le andrò a rivedere nel caso appunto ci sarà la necessità Perché oggi andremo a cercare di aggiustare i portali E andremo a cercare di Oddio se riesco a salire E andremo a cercare di esplorare la fortezza Non credo che faremo dei tagli in questo episodio straordinariamente Però prima di cominciare voglio fare i saluti di oggi che sono per De Epictia Poi per Bubbotto98 che tra l'altro chiedo anche scusa a questo utente Perché mi aveva chiesto già parecchie volte di essere salutato Ma io volevo diciamo accumulare un paio di saluti E arrivare almeno a 4 o 5 E appunto adesso siamo a 4 E quindi lo saluto e gli chiedo scusa se è dovuto aspettare tanto Poi saluto Dario Parlani E poi insulto Cripton98 Quindi Cripton va a quel paese Come mi ha chiesto lui ragazzi E niente quindi lo insulto e lo ringrazio per appunto essersi fatto insultare E niente ragazzi allora cominciamo subito Adesso bando alle cavolate Andando a rompere i portali che abbiamo fatto là Perché a sto punto sono completamente inutili Quindi andiamo in quel posticino E rompiamo tutti i portali Poi li rifaremo non probabilmente diciamo sicuramente In una postazione migliore Ok i quali c'è anche non si caricano ma va bene lo stesso E andiamo a rompere tutti i portali Ok aspettate che no Senza rischiare di fare delle cavolate Ok Vediamo un attimino Dai forza su veloce Ok E fuori uno Anche di qua Rompiamo gli altri due Meglio fuori due non fuori uno Ok si è un po' lenta la cosa ma va bene Dai Ok Quindi i portali sono ufficialmente tutti quanti spenti Allora andiamo a prendere ancora un po' di ossidiana Perché ci serve Poi la verrò diciamo a togliere Tutta quanta Però adesso me ne serve ancora un pochettino Anzi andiamo a prendere qua Ok La prendiamo giusta giusta agli angoli Poi vi spiegherò anche il perché Ne prendiamo nove pezzi E anche qua poi vi spiegherò il perché Allora sei quindi ancora altri tre Quindi ne prendiamo uno qua Dai forza Lo so è un po' lenta come cosa Spero di non annoiarvi ma Stai tranquilli E al massimo ci do una velocizzata E E niente allora Vediamo un attimino Quanto ci vuole Su E' un po' veramente lento sto piccone Perché ha solo indistruttibilità come vedete Non ha niente di che Ne ha ancora un pezzo e ben finito Forza e coraggio Dai E' veramente una piaga da farmare l'ossidiana Oddio Su Ok perfetto ci abbiamo fatta Sembrava incredibile ma ce l'avevamo fatta Quindi Adesso Cosa servirà a noi Se non Un accendino per azionare il portale Poi appunto partiremo Distruggeremo il portale che abbiamo nel nether E andremo A crearne uno in un nuovo punto E poi appunto Andremo a esplorare la fortezza E Niente ragazzi Quindi Direi che Come posso fare qua Ehm Fatemi pensare Andiamo prima di tutto a prendere l'accendino Facciamo così Ok Oddio qua I soliti chanke che non si caricano Veramente Rompiscatole Ok Andiamo qua a vedere Ehm L'accendino dov'è Dove l'ho messo l'accendino Accendino Ah eccolo qua Ok Allora Direi che abbiamo l'accendino Abbiamo tutto si Allora prima di partire Ho costruito un'ascia E l'ho incantata E è uscito fuori Efficienza 4 Perché porto un'ascia Nel nether Perché appunto Andremo a Diciamo esplorare Una fortezza Diciamo Nuova Perché Dubito che Ehm Io personalmente non l'ho mai vista Perché la scorsa stagione non c'era Però adesso appunto c'è Ehm Sto parlando di un nuovo Tipo di fortezza Ovvero una fortezza che Al suo interno Ha le casse Adesso andiamo a distruggere questo portale Che tra l'altro Era pure buggato Adesso abbiamo i 10 pezzi Che ci servono Perfetto Ehm Pigman non ne vedo Ma quelli là Pensavo di Ehm Che siano i stinti Pigman E non capivo Cosa era successo Sento già Un ghast Sembra di no Comunque La fortezza Non è molto lontana E' dietro questa colinetta Vedete Dietro quella colinetta Lì quindi Non c'è neanche tanta strada Dal vecchio portale E adesso Cercheremo di andare Eh Ghast Per favore Non spararmi Cercheremo di andare A sistemare un pochettino Le cose Allora Mi avete anche detto Nei commenti Oddio Non ti ammazzare Ok E di Fare qua Una specie di giardino Ehm L'avevo già accennato Ma lo faremo Oddio Dove sei? Dove sei? Ah ecco ti da Vieni qui Vieni di qua Vieni di qua Oddio muori Ok Logicamente Cade tutto quanto Nella lava Si Mi sembra giusto Si può mica andare a prendere? No Non andrò a prendere Oddio Stavo per cadere Calmo Cosa stai facendo Ferre Calmati Ok Eh beh scusa Tanto vale Vado a prendermi Staccavo l'esperienza Già che mi sono mezzo Ammazzato per prenderla Ok Quindi adesso Andiamo appunto Nella Fortezza Oddio Guardate qua quanti Cubetti Mi sono andati persi Oddio Adesso ne picchio uno E sono finito Calmo Ok Per risalire Ho fatto questo Dovevo una scala chiocciola Molto easy Che Però appunto Ci riesce a portare di sopra Senza troppo sforzo Senza troppo Senza troppi casini Ok Vediamo un attimino Se ci sono già dei Wither boss The Wither boss The Wither Ma penso di no Perché qua avevo anche illuminato Allora Andiamo A fare Un portalino Dove lo andiamo a fare Il portalino? Direi 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 Che lo andiamo a fare Di sotto Però a sto punto Il portale Si Direi che il portale Si fa di sotto E lo facciamo Lo facciamo Qua No Non mi sembra Il punto migliore Oddio Dove lo possiamo fare Il portale? Lo andiamo a fare qua Cosa ne dite? Si dai va bene Andiamo a farlo qua Il portale Ok Allora Tac 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 E anche qua Senza ammazzarci Possibilmente Ok E lo andiamo a accendere Adesso proviamo a tornare indietro Si dai Proviamo a tornare indietro subito Così se ci sono dei casino Dovevo fare già un bello stacco Per risistemare le cose Ma spero di no Adesso mi spawna tipo Cura la balena Eh si Mi sa che mi spawnerà In qualche posto strano Oddio Dove sono Eh Buongiorno Dove cavolo sono ragazzi Oddio Eh no Penso che tornerò indietro Si Eh Arrivederci Aspettate però A sto punto Mi piglia un pezzo Isidiana Adesso mi arriva tipo Un best creeper dietro Ti prego no Nessun creeper Ti prego no Ok L'ho preso L'ossidiana Si E me ne torno indietro Ciao Io qua Non voglio più avere a che fare Con nessuno Perfetto E allora Andremo a riazionare Il portale vecchio E Però adesso Piuttosto pensiamo A esplorare La fortezza Allora ragazzi Ehm Appunto quindi Utilizzeremo quest'ascia Come dicevo prima Per andare a rompere Più velocemente Le casse Infatti andremo proprio a rompere Perché Oddio Là c'è già un carissimo Blaze Opla No Blaze Stai calmo Aia Oddio Hai il pigment davanti Allora Calma Ehi ehi Vieni qua Siamo amici Ok abbiamo già una blazerod Perfetto Allora Andiamo un pochettino A esplorare Questa fortezza Però Allora Però per non perdermi A ogni angolo Andrò a mettere Una torcia Nella direzione in cui devo andare Un incrocio Meglio Allora Allora Andiamo di qua Vediamo un po' Bello Bello Qua si Si dirama molto Uh Già una cassa Vediamo un po' Cosa c'è dentro questa cassa Oppa Sella Corazza d'oro Spada d'oro E anche Leve Rook Del Nether Fantastico Uh Qua c'è un'altra Di nuovo Di nuovo Oro Fantastico Un'altra ancora Armature per cavalli Che cuore Ragazzi Che cuore Stiamo calmi Ok Tac Perfetto Torce sono poche Vero Ma va bene Qua cosa c'è Un'altra armatura Per cavalli Abbiamo già tre armature Per cavalli Ragazzi Oddio Questo è veramente Fortuno Pensavo Non lo so Mi fate paura voi pigmen Non lo so cosa pensavo Però Oddio Non sparare Oddio Ehi no Ehi no No Ok Va bene Vediamo un pochettino Qua dove si va a finire Da nessuna parte Fantastico Nel frattempo Sento un bellissimo Gust che Mi fa i suoi versi Nelle orecchie Ok qua c'è una fiammetta Da spegnere Di qua dove si va Un'altra cassa Ben due casse Vediamo un po' Opla Allora Andiamo a pigliare La roba Perfetto Andiamo a pigliare Anche questo Cosa Tre diamanti E un'armatura In diamante Per il cavallo Che fortuna No ragazzi No ragazzi Veramente Qua cosa c'è Direi che non è Un buon posto No Ragazzi Ho già Tre diamanti Armatura in diamante Direi che Visto che sono ancora All'inizio Faccio una cosa Molto veloce E molto semplice Ovvero Torno Un attimino indietro Proprio perché Ho po' di morire E Faccio Una piccola Zona Molto semplice Qua Adesso vi faccio vedere Una cosa Proprio Per Non rischiare Anche se non penso Di morire nella fortezza Perché Non mi sembra A meno per ora Molto difficile Anche se Gioco appunto Molta difficile Ma va bene Ok Opla Scendiamo così Nella nostra Scaletta Ok E andiamo a mettere Due Delle nostre Casse Qua Ok Mettiamoci dentro Tutta sta roba qua Ok Anche l'accendino Perfetto E Basta Il resto ce lo portiamo dietro Anche Il pezzo Ossidiana Che è importante Non bisogna perderlo E l'armatura Per cavallo Anche Ok Si Perfetto Abbiamo messo dentro tutto Ok Ricominciamo con l'esplorazione Sarebbe bello trovare Anche qualche Testolina Di Wither Però non Penso Che riuscirò A trovarla Eh no Penso proprio di no Però Incrociamo le dita Speriamo Allora Mh Là c'è già Uno scheletraccio Giusto Si Di quelli Che a me non piacciono Ok Non capisco perché Le frecce sono buggate così Ma va bene Ah là ci sono già Dei Wither Perfetto Ecco là Già uno Ok Là c'è uno Spawner Di Oddio 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 Due Spawner Allora Calmati Là c'è Il carissimo Wither Vieni qua Aia Aia Testa Niente Però mi ha droppato La sua carissima Spada Allora Oddio Calma 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 Oddio Ma lì è buggata La costruzione Oddio Eh Si Può essere un problema Direi di si Calmo 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 Ok E ok No Adesso andiamo là Molto velocemente Andiamo a tappare Quella scavolata Mori muori Ok Andiamo a tapparlo Perfetto Anche Oddio Va a quel paese Allora Calmo Muori Ok Niente Blades rod Grazie Comunque qua Non si spawna Un cane Ma lo si Continua Spawnare Dei Maledetti Ok Ragazzi Sto 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 Andando Fuori di testa Comunque così dovrebbe essere bloccato Speriamo E mangiamo Soprattutto Perché ripeto che non voglio morire Anche se è abbastanza Palese la cosa Ok A te Ti vuole bene Stai tranquillo Qua c'è un buco Sì Calmo Stai calmo Anzi Andiamo a Unire Le strutture Perché non voglio rischiare Di lasciarci Le penne Ok Così Perfetto Adesso Andiamo di qua No non ci andiamo di qua Andiamo di qua Ok Oddio che paura ragazzi Non so se vedete Molto Perché è tutto piuttosto scuro Ma vi chiedo scusa E Vediamo un pochettino di qua Dove si va Ok qua siamo saliti Per un bel po' E siamo arrivati Dove ci sono i Wither Ok Andiamo a uccidere Quello là Ok Ucciso Vediamo un po' questi Wither Come La prendono Direi di Ok direi che Cadranno Tutti quanti Di sotto Ok Ok Meglio star lontano Da questo punto Oddio ragazzi Che rischio Qua C'è la nostra Blaze Road Fantastico Sento Gusto ovunque Sento di tutto Oddio Proprio esplorazione Esplorazione Devastante Ragazzi Allora Siete qua vero Eccovi lì Vieni qua Oddio Lagga adesso o no eh Sei matto Non puoi laggare adesso Non è il momento Per laggare Ok muori Perfetto Carbone Carbone Che Mi serve Per le torce Bravo Sei utile Sei utile Utile Wither Stavo Parlando in aramaico Ma va bene Allora Dove devo andare adesso però Sono sul piano sbagliato Direi Sì E io quindi tipo mi butterò Ma non credo Invece sì Opla Ok Ste mostre me le posso evitare Sì Però non la farò Perché lì c'è un Pericolosissimo Blaze No Allora calmi Calmi Calmo Calmo Calmi Tutti Tutti Inciavolati qua Perché Vieni qua te Vieni qua Ok Altro carbone Mangiamo Oddio Là c'è un ghast Non mi sparare Ti prego Io ti voglio bene Anche a te Bebi zombie Ti voglio bene E lo sapevo E lo sapevo E lo sapevo Allora Altra torce Ok Qua ci vanno dei blocchi Ok Calmi Oddio Dai per favore Non è il momento Oddio Questa qua è da tappare Ok Questa qua è da tappare Completamente Ok Perfetto Qua si sale Oddio Questa fortezza È veramente Oddio Dove sei Dove sei Ecco ti là Stavolta ti ammazzo Muori Muori Dove vai Vieni qua Ok Oddio Casse Casse Ne abbiamo più Trovate Però qua Qua la fortezza Continua Questa Potevo anche Non farla Come discesa Ma va bene Andiamo un po' A vedere dove va Questa fortezza Continua anche Per bene Direi Si Opla Ah ecco qua Ok Uh Eccole qua Le nostre carissime Verrucche del nether A parte che ce le abbiamo già Quindi le posso anche lasciare Però qua ci dovrebbero essere Altre casse Eccole lì infatti Ah ah Molto molto bene Ok qua mangiamo Vediamo un attimino Dove Ci porta Questa Cosa Sembra da nessuna parte No qua sembra che sia finita Semplicemente Vediamo un po' cosa c'è Un'altra armatura Il nevante Altre selle Fantastico Oh che fortuna Sono troppo contento Alleluia Vediamo un attimino Adesso Devo andare Di sopra Uh lì c'è la glowstone Però E qua si può anche scendere Vediamo un attimino Se ci lascia passare Grazie Beh questo qua Verrò poi poi In un altro momento Con i dovuti picconi Uh lì C'è un'altra cassa Uh qua un'altra cassa L'ha un'altra cassa Fantastico Opla Guardate qua Quanta Bella roba Qua cosa c'è Anche qua Selle E armature Penso che Abbiamo Ci siamo tolti I problemi delle armature In questo Episodio Ragazzi E verrà anche Magari un po' più lungo Del solito Perché E appunto Un episodio di esplorazione Quindi non faccio tagli Ci metto Relativamente Meno Rispetto agli altri episodi A registrare Però Beh comunque Ci metto un bel po' Tra il rendering Le solite cose Però È un episodio un po' più tranquillo Anche per me questo Anche se mi prendo Degli spaventi assurdi E Niente Allora adesso Non so dove devo andare Credo che mi perderò No Perché Mi sono appena ritrovato La strada Di casa Che è questa qua Mi ricordo Ok Qua dove si va Da nessuna parte Qua Invece No Di qua invece si può continuare E no Come abbiamo detto Ok Sembra che abbiamo esplorato Gran parte Si Abbiamo esplorato già gran parte Della fortezza Di qua Abbiamo visto che non si è da Da nessuna parte Ok Di qua Si risale Ok qua ci eravamo già stati prima Vediamo un attimino Da questo lato Dove si va Ok Non sto ripercorrendo La strada che ho fatto prima Per essere Diciamo sicuro Di non aver lasciato nulla E ok Quindi adesso risaliamo Qua sopra Guardate quante armature Abbiamo trovato ragazzi Davvero Una cosa assurda Nel frattempo Il ghast Non ci lascerà mai Noi non ci lasceremo mai Ok Perché qua finisce tutto Perfetto Allora Qua c'è qualcosa Questo piano No Ci sono solo dei Punti Facili Per il ghast Per ucciderci Ok Quindi il verrucchio del nether Lascio lì Perfetto Di qua si può andare Lascio un altro witter Di qua Di qua nulla Ok E di qua Ce l'hanno già stati Penso Oddio Quanta cavolo di gente c'è Vai proci Dai proci Dai 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 Vieni qua Vieni qua Mamma mia Siamo spawnati Proprio A raffica lì Ok Direi che Quindi anche qua Abbiamo raggiunto La fine Ok Quindi Uh qua c'è il carbone Molto bene Il carbone mi serve Ok Direi che Abbiamo esplorato Tutta anche questa parte Qua cosa c'è Aspettate No qua c'avevo già stato Mi sembra Qua dietro Qua dietro no Cosa c'è qua C'è una Strettoia Che Non andrò Assolutamente a vedere Perché Porta fuori Della fortezza Ok Quindi direi che risalgo Ok Ne ho vado di qua Oddio Questi sono i funghi Messi tutti in fila Oddio Calma Buongiorno Buongiorno Sì Sono un po' incazzati Questi ghast Vediamo se riesco a mangiare Un ghast con una spada Mi sentirò realizzato No Assolutamente no Quindi direi che Mi levo dalle scatole Non ci troverò mai più Ah no Aspettate però là Non posso andare Volendo Sì Lo so che mi sto sparando Un ghast ragazzi Ma è un problema Che viene dopo Oddio Oddio No non è un problema Che viene dopo È un problema Da affrontare adesso Anche perché Sta arrivando Uno slime gigante Vieni Come on Oddio Vieni qua Ok È abbastanza insensato Come mob Questo coso Oddio Oddio ragazzi Oddio Ok Muori Dovrebbe dropparci Le sue carissime Come si chiamano Palline Guardate quanti sono Oddio Adesso colpisco Per sbaglio Un pigman È tutto studiato Secondo me Nether Proprio per Aiuto Ecco Tutto studiato Opposta Per farci commettere Degli errori E colpire E colpire i pigman Perché nel momento In cui colpiamo Un pigman Siamo fottuti E si che diventa Hardcore Il Solo due Solo due palline Va bene E diventa Estremamente Difficile Il Nether Ok Uh là c'è un Carissimo Amico Che non mi sparerà Invece si Eh Come ti permetti Vieni qua Ok Caduto da solo Perfetto Ok ragazzi Direi che Eh Abbiamo esplorato Il grosso Della fortezza Direi che possiamo Cominciare a Eh Fare due progettini A Farci due idee In testa Allora In frattempo Chiamiamo l'appello Ancora a questo Carissimo Wither Allora Caro Wither Venga con me Che Eh Voglio parlare Mi segua Voglio mostrarle Che cosa farò In queste In queste cose Allora Eh O in questa O in quella Piattaforma Eh Credo che andrò a costruire Una Farm di blades Non so Se le piace l'idea Cosa ne pensa Però Non si avvicini troppo Grazie Eh Lei invece cosa ne pensa Di fare una farm Con i suoi amici Allora Il dirò è di non morire Che è già una cosa buona Direi che Però prima di fare una farm Con questi tipi Dovrò andare a Ehm Fare la famosissima farm Di ferro Che ormai è D'obbligo Ehi no Please Oddio No Calma Siamo amici Stai calmo Ok Calmo No Oddio Cosa succede Ah litigano Guardateli Bravi 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 Adesso per caso Colpisce Guardate il combattimento The best combattimento Proprio Guardateli la Come si ammazzano Chissà che vincerà Oddio Muori va Mi sa che Muorirò io Si muoio Muoio Come riesco A parlare Ragazzi Non si sa Allora Ehm Ho notato che Non parlo molto Quando sono concentrato Così In queste Missioni di Concentrazione Allucinante L'unica cosa è Fare la famo Dove c'è la cosa Buggata O fare la famo Dove abbiamo più spazio Io direi dove c'è più spazio Semplicemente Perché? Perché c'è più spazio Ehm Comunque penso che Sfrutterò la fortezza Ci farò tanti portali Qua e là Senza senso Solo appunto Per poter avere Nuovi biomi Perché ho visto che Prima sono stato spavolato In una foresta oscura Bioma Bioma che vorrei Oddio Che cosa sta succedendo Bioma che Vorrei Diciamo Ehm Avere più Ehm A portata di mano Comunque qua direi che Abbiamo esplorato La maggior parte A fortezza E questo È Il nostro bottino Ed è abbastanza invidiabile Sì Adesso Proviamo a fare un'ultima cosa Ragazzi Poi penso che vi saluto Perché Ehm Se sono stato un pochettino Troppo silenzioso Se non ho parlato molto Eccetera eccetera E anche perché Ehm Come al solito Sto registrando questo video A sera Ehm Ed è abbastanza dura Sì è molto dura Ehm Con il portale Non lo distruggerò Ehm Perché ho sempre l'impressione Che vuoi picchiare Non è un'impressione Tu mi vuoi picchiare Solo che Non hai la scusa per farlo Aspetti Di averla Ah Ecco I pigmen Sono tutti Prenditi a picchiarci Questo è un complotto Comunque Ehm Ragazzi Devo fare una foto Una foto Una foto Una foto Sì una foto Faccio il turista In minecraft No Faccio uno screen A qualcosa Ehm Che cos'è la cosa Principale Della fortezza Ma Direi Quello che abbiamo trovato La pioggia di La pioggia di Ehm Armature Però penso che un'altra cosa Molto fondamentale Sia Il dungeon Sì il dungeon Di Ehm Di Ehm Blades Avrei anche due parolini Da spendere Ehm Riguardo questo Dungeon Però non Cioè Non lo so Se Sono cose Motivate O comunque Che Che possono essere Condivise anche da voi Meglio io credo che Semplicemente in questi Ehm Dungeon Oddio Guardate là c'è un Witherboss C'è un Witherboss Oddio Stammi lontano Per carità di Dio Oddio Mi sono preso veramente paura Ehm Stavo dicendo che No ma perché Ma perché Ma perché Ma perché Ma perché No E 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 no Allora io sto cercando di parlare Comunque stavo dicendo che secondo me Dovrebbero essere aggiunte Anche qua Delle casse Anche in questi dungeon Come è giusto che sia Perché comunque È un dungeon È un dungeon Ne derresco Ma è un dungeon Ok Che ho tra l'altro Ucciso anche Il povero tizio Adesso Se riesco a fare uno screen Mi sarei grato Grazie Ehm Niente ragazzi Quindi direi che Adesso andremo a reattivare il portale Nel frattempo vi Come al solito Ehm Vi chiedo scusa Se Ehm Appunto Non ho parlato molto Se Sono stato un po' giù Con la voce Però appunto Per portarvi il video Che tutti quanti voi volete Ogni giorno E che mi fa anche piacere Portarvi ovviamente O mi sono ridotto A registrare veramente A un'ora Assurda Sono tipo le dieci Mezza Undici Qualcosa del genere E registrare a quest'ora È veramente una cosa impossibile Perché Ehm Io Devo ancora renderizzare E caricare il video Entro domani A mezzogiorno Infatti Una cosa che non è detto Ehm Ed è giusto dire Invece che Un mondo di cubi Indicativamente Poi uscirà Spesso e volentieri A orari Completamente diversi Ehm Un mondo di cubi Spesso e volentieri Sarà una Ehm Serie Ehm Che esce Il Ehm Il Tutti i giorni Ma A A mezzogiorno Ecco Ehm Nel frattempo Qua stavo pensando Che devo riaccendere normalmente Sì Proviamo a entrare Incorciamo le dita ragazzi Ehm Speriamo Speriamo veramente Andiamo un po' E sì ragazzi Ok Siamo a casa nostra Alleluia Ragazzi Direi che Io Comunque Come al solito Vi invito a Lasciare un like A commentare Ehm Saluto anche Gli zombie Che ci seguono da casa Ringrazio i zombie Che mi hai pure dato fuoco Beh tanto ormai Ci sono abituato Dopo essere stato nel nether Ehm Quindi Ringrazio i zombie Sì ringrazio tutti quanti voi Che avete visto questo video Ehm Ringrazio tutti quelli Che mi metteranno mi piace Anche se appunto Il video Non è stato Ehm Lo dico io Personalmente Non è stato fantastico Perché ero piuttosto stanco Comunque spero che Appreziate lo sforzo E niente Vi invito a lasciare comunque un like Perché youtube è stronzo Questo io ormai lo dico in ogni episodio Ehm A commentare A iscrivervi A Continuare a seguire questa serie Se vi piace Ma abbiamo ancora D'altro cibo Ah che pollo Ehm E niente ragazzi Quindi Nel prossimo video Con tutte le cose che abbiamo trovato Con tutte le risorse Che adesso poi Trasporterò pure Le andrò a prendere Non lo so Adesso non abbiamo neanche i cavalli Quindi Sinceramente mi sembra Anche un po' una cavolata Ehm Comunque Ragazzi Direi che Ehm Per questo video è tutto Io ancora una volta Vi chiedo scusa Se può aver annoiato qualcuno Spero che comunque Ehm Vi sia piaciuto Quando andrò a far cuocere Un po' di Ehm Come si chiama Ehm Netherrack si Perché è dalla netherrack Vi faccio vedere Che cuocendola Ehm Otteniamo Dei lingotti L'ho messo nel punto sbagliato Dei lingotti Che Se andiamo a unire Ehm Ci danno La Ehm Tanto amata Ehm Come si chiama Oddio I tanto amati mattoni Del nether Che si chiamano Netherbrick Comunque Comunque questi cosi qua Ragazzi Eccoli Questi cosi qua Ehm Niente ragazzi Comunque Io ancora una volta Vi ringrazio Ho già ringraziato tipo 700 volte Come faccio Di solito Ehm Comunque vedete Ottengo questi mattoni qua Ehm Quindi vi do appuntamente Al prossimo video Dove andremo a costruire L'ambicco A costruire tante altre cose A vedere come utilizzarlo Cosa farci E niente Quindi io vi saluto Per la centesima volta E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti